casello a santa veneranda ok dal consiglio comunale edilizia sanitaria la regione punta al cambio di passo pronto soccorso marche nord il nuovo direttore è giancarlo titolo con commercio e confesercenti contro l'annullamento delle multe a carriera basket partono le pannelli di coppa italia all'adriatic arena buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news ben ritrovati al nostro telegiornale che in questa edizione di martedì 15 di febbraio apriamo occupandoci di nuove opere a pesaro e nello specifico del secondo casello autostradale il cosiddetto casello pesaro sud un'opera rimandata fin dall'inizio degli anni 2000 e che ora sembra finalmente vestirsi di concretezza il casello autostradale pesaro sud comincia a intravedere un barlume di concretezza il consiglio comunale di lunedì ha votato con 21 voti favorevoli e 7 contrari parere favorevole al progetto definitivo per il casellino monodirezionale da realizzare in zona santa veneranda il sindaco ricci nell'occasione ha tracciato anche la speranza di andare in gara per i lavori nel 2023 primo cittadino e assessore mila della dora che hanno ripercorso la storia travagliata di una delle opere compensative di società autostrade che da quasi 20 anni vive di stop and go procedurali non aiutati dal crollo del ponte morandi e della pandemia siamo arrivati tardi lo sappiamo quindi recuperiamo sicuramente la determinazione del sindaco che negli anni ha sempre inciso nei vari ministeri per far sì che le opere si potessero portare a compimento insomma lo stiamo vedendo perché ieri abbiamo votato ripeto il parere al progetto definitivo quello del comune di pesaro è uno dei tanti pareri che sarà legati alla conferenza di servizi dopodiché ci sarà la fase della progettazione dell'esecutivo cosa che per le altre opere compensative è già stato fatto quindi le altre opere compensative sono già alla fase esecutiva della progettazione e abbiamo visto al momento l'unica opera che è partita è quella di muraglia la circonvallazione di muraglia il sindaco in consiglio comunale ha chiarito come la logica del casellino rappresenti una mediazione alle esigenze di viabilità cittadina il casello attuale di pesaro rimane il principale qual è la caratteristica che pesaro ha e non altre che non hanno altre città che il casello attuale è tutto a nord il casello di fano è il centro della città il casello di pesaro è tutto a nord e quindi se tu non vuoi declassare quel casello e vuoi migliorare il collegamento da e verso sud quello deve rimanere il casello principale per cui è vero che è stata una mediazione perché c'era una discussione che si era come dire impantanata però anche vero che se ci pensiamo bene per come è fatta pesaro è una soluzione che ha degli effetti positivi perché il casello attuale rimane il casello principale è il casello delle aree industriali il casello sud diventa un casello di miglioramento della viabilità nord sud ma non è il casello principale e quindi pur essendo stata una mediazione è una cosa che se ci pensate ha una logica anche strategica non sono mancati mal di pancia nell'opposizione da una certa preferenza alla montelabatese rispetto a santa veneranda alla scarsa possibilità di correttivi fino ai dubbi sull'impatto ambientale o di fatto il progetto non può essere modificato in alcun modo e questo consiglio comunale in questo di questo mandato diciamo così non può non può in nessun modo intervenire su questo su questo progetto in quanto quello su cui il minastero di fatto ha già dato il parere favorevole dal punto di vista dell'impatto ambientale non può in nessun modo essere toccato io non penso che sia in basso impatto ambientale un casello monodirezionale perché quelle stesse macchine che non è che diciamo casellino visto che monodirezionale perché quelle stesse macchine che non entrano in quel punto della autostrada e che quindi hanno una via di scorrimento maggiore entrano negli interquartieri entrano che è un impatto maggiore da un punto di vista ambientale perché ha un impatto di inquinamento molto più forte una macchina che va all'interquartieri perché deve fare tutto il traffico stop and go rimaniamo in tema di consiglio comunale per parlare di europa verde forza politica di recente costituzione che ora diventa parte della maggioranza pesarese riportando i verdi in consiglio comunale per noi molto importante far comprendere che adesso a pesaro ci sono tre componenti partitiche all'interno della maggioranza oltre al partito democratico e l'entrata del movimento 5 stelle ci siamo anche noi siamo fieri di esserci dopo almeno 15 anni di silenzio voluto dovuto in parte sicuramente da una precedente dirigenza partitica dovuto da un allontanamento da parte dei cittadini pesaresi dalla sensibilità ambientalistica dalla politica in genere quindi noi vogliamo far capire che siamo un partito di serie a perché il nostro obiettivo come quello dei verdi storici dal 1985 è fare politica concretamente con questa visione che ci appartiene da sempre quella della visione biocentrica e non antropocentrica che deve essere e deve accompagnare una transizione ecologica in ogni settore sociale economico oltre a aver costituito il gruppo consigliare il 20 dicembre noi abbiamo fatto l'assemblea costituente del partito a pesaro il 22 dicembre quindi europa verde è fuori e dentro le istituzioni decisamente questo significa che noi ci saremo rivolto al sindaco ovviamente per tutte all'interno e fuori delle istituzioni come partito e come politica e come consiglio comunale per portare avanti delle strategie che abbiamo illustrato nella nostra mozione programmatica e noi abbiamo intenzione di occuparci del della qualità dell'aria del dell'acqua della gestione dei rifiuti abbiamo intenzione di portare avanti una specifica strategia che si chiama strategia degli spazi verdi perché crediamo che il verde urbano sia diciamo nella gestione di un'amministrazione il filo conduttore per valorizzare tutto il perimetro comunale e tutto quello che c'è di ecosistemico a livello comunale perché questo ci aiuta a valorizzare oltre che a promuovere a proteggere tutto il patrimonio quindi non solo naturalistico ma anche architettonico storico culturale e crea dei servizi per la comunità e cambiamo versante politico Nicola Baiocchi consigliere regionale pesarese di fratelli d'italia è stato intervistato oggi ai nostri microfoni per commentare il master plan di edilizia sanitaria pronto a riversare svariati milioni di euro sulla sanità del territorio un investimento io direi epocale perché parliamo a livello regionale di quasi un miliardo di euro nella nostra provincia teniamo conto che oltre 200 milioni di euro a partire intanto dal dall'ospedale di pesaro 150 milioni di euro dividiamo quindi due fonti di finanziamento quelli derivanti dall'edilizia ospedaliere quella derivante dal pnr sanità dell'edilizia ospedaliera come dicevo 150 milioni di euro per l'ospedale di pesaro interventi importanti sull'ospedale di urbino di fano strutture importantissime per importantissime per il nostro territorio e nel pnr sanità sono state ricomprese spese importantissime per il nostro territorio che riguardano case di comunità e ospedali comunità ospedali comunità interventi su sulla struttura di galantara pesaro sull'ospedale sul bombaroccio ospedale di comunità cagli e tante altre strutture nel territorio elementi fondamentali che fanno propendere veramente per un cambio per un cambio di passo per una idea diversa di sanità da una sanità accentrata tutto su un'unica struttura ospedaliera a una sanità policentrica e territoriale ecco infatti diciamo che si abbinano le due cose novità e potenziamento di quello che forse era stato depotenziato in questi anni esattamente è un è proprio un elemento fondamentale di 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 novità di potenziare le strutture che sono state depotenziate e di intervenire territorialmente affinché tutti i cittadini all'interno del nostro territorio abbiano paregnità sono state fatti anche un intervento ad esempio che vorrei ricordare importantissimo l'ospis pediatrico per le cure palliativa fanno che è una una struttura fondamentale quindi faccio i complimenti anche l'associazione maruzza che ci ha creduto in tutti questi anni in ordine a questo progetto che non vedo chi possa mai essere contrario a una struttura del genere che dà dignità a questi a questi bambini in situazioni di difficoltà e creerà sicuramente un hub importantissimo all'interno del non solo della regione marca nel centro italia che potrà sicuramente creare anche una mobilità attiva verso il nostro territorio Marche Nord ha assegnato al dottore Giancarlo Titolo l'incarico di nuovo direttore facente funzioni protempore dell'unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza di Pesaro ricordiamo che titolo attualmente dirigeva il pronto soccorso di Fano titolo che succede all'altra direzione protempore quella di Umberto Gnudi e alla cessazione dallo scorso 15 gennaio del rapporto di lavoro con il direttore Stefano Loffredda non rientrato in servizio dopo due anni di aspettativa richiesti per incarico in un'altra nazione all'ospedale saudita di Riyadh ad annunciare il conferimento dell'incarico a titolo la stessa direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera riunitasi questa mattina per valutare le candidature pervenute e dopo due settimane di discesa la curva dei contagi si è appiattita su qualche giorno di dati stabili nelle marche come confermano i 2881 nuovi casi di oggi di cui 585 nella provincia di Pesaro Urbino 350 i ricoveri attuali con un più 4 in area medica e un meno 6 in terapia intensiva dove attualmente ci sono 36 pazienti sempre sostenuto il numero dei decessi con altri 9 morti di età compresa fra 54 e 104 anni nessuno dei quali della provincia di Pesaro Urbino dal 20 al 26 di febbraio la regione Marche sarà presente all'expo di Dubai e tra le aziende portabandiera della innovazione del territorio ci sarà anche la Townet di Cagli una startup innovativa che potrete approfondire in uno speciale che Rossini TV trasmetterà venerdì 18 febbraio alle 21.20 ma della quale vi diamo intanto qualche anticipazione in questo estratto del servizio di Antonio Astuti Siamo in provincia di Pesaro esattamente a Cagli nella zona industriale di Cagli dove esiste una autentica eccellenza del nostro territorio un'azienda che si chiama Townet è stata fondata nel 2003 è condotta oggi da due soci e conta in tutto otto dipendenti ma è un'azienda che si contraddistingue per la sua capacità di cogliere il momento il momento dell'innovazione è l'ultimissimo prodotto di questa azienda che si chiama Sfera e che viene non a caso presentato a Dubai nel corso dell'expo Siamo un'azienda marchigiana che è nata nel 2003 qui a Cagli con un'esigenza imminente che era quella di risolvere una problematica connesse alla diffusione del broadband All'epoca nel 2003 avevamo una copertura a macchia di leopardo delle soluzioni di interconnessione e la nostra azienda ha sviluppato uno dei primi sistemi radio wireless per interconnettere al di fuori di quella che era l'offerta del monopolista dominante e quindi siamo specializzati nella produzione di apparati di telecomunicazione Abbiamo approfittato dell'occasione che ci ha offerto la regione Marche di poter essere presenti all'expo a Dubai con un nuovo prodotto che è appena uscito e per cui è stato appena presentato Si tratta di un oggetto che è un'integrazione per sistemi di videosorveglianza e di controllo ambientale nelle smart city cosiddette che integra al suo interno sia sistemi di alimentazione, di monitoraggio dell'aria, dell'ambiente ed è possibile controllare tutto questo centralmente L'apparato dispone di batterie a litio per tutto un discorso di recupero energetico e di sostenibilità anche con pannelli solari dell'alimentazione per cui proprio destinata a quei mercati come Dubai oppure come gli Emirati Arabi comunque del Nord Africa è possibile collegarlo ai lampioni senza dover predisporre delle alimentazioni specifiche si alimenta con la corrente che viene mandata al lampione per cui di giorno si alimenta con le batterie e di notte viene ricaricata dalla tensione di rete Questo ci rende orgogliosi ma non basta però essere orgogliosi bisogna sostenerlo realmente il sistema economico e abbiamo fatto un bando per realizzare un'operazione sfruttando Dubai e a fianco all'Expo di Dubai abbiamo messo una settimana dedicata alle imprese marchigiane ma non le abbiamo coinvolte in modo tradizionale noi abbiamo fatto un bando, le imprese hanno risposto al bando con un progetto compliance al proprio business e ci hanno chiesto di fare cose diverse tra loro queste cose diverse si declinano in tanti eventi fatti dentro la città di Dubai e Townet è una di queste e quindi volevamo raccontarlo anche ai marchigiani che cosa andiamo a fare a Dubai e soprattutto tutto questo per la prima volta è anche un'operazione di branding cioè siamo riusciti con questo marchio, Marche Land of Excellence a creare un'identità che sarà comune a tutte le imprese insieme alla Camera di Commercio e alla Regione Marche andremo a presentare ciò che le Marche di Meglio hanno da raccontare al mondo Amerigo Varotti e Alessandro Ligurgo rispettivamente direttore di Commercio e Confesercenti Pesaro e Urbino sono intervenuti oggi in un comunicato stampa congiunto per esprimere il proprio sdegno contro la decisione della magistratura di annullare la multa a Umberto Carriera per aver tenuto aperto il suo ristorante La Grande Bellezza di Monbaroccio un anno fa contravvenendo al DPCM Conte per Varotti e Ligurgo è una decisione che offende l'intera categoria di ristoratori che pur lottando tra mille difficoltà hanno comunque rispettato la legge e tutelato i propri clienti Varotti e Ligurgo dicono di attendersi a breve le motivazioni di una scelta reputata incomprensibile, ingiusta, sconfortante e che fa sentire la categoria priva di tutele E cambiamo argomento ma restiamo in tema di Confcommercio Pesaro nella cui sede oggi è stato presentato Adriatic Green Trail una novità all'insegna del turismo sostenibile che andiamo a scoprire nelle interviste realizzate da Edoardo Razzi L'Adriatic Green Trail è un'esperienza cicloturistica quindi parliamo di cicloturismo della provincia di Pesaro Urbino che darà la possibilità in tre giorni, 8, 9, 10 aprile di gustare a pieno le bellezze del territorio quindi è un itinerario in bicicletta per godersi poi tutti i borghi della nostra bellissima provincia Chiaramente poi ci saranno dei percorsi anche impegnativi della lunghezza media di 80 km al giorno per un percorso medio oppure più lungo di 130 km al giorno ma ognuno al proprio ritmo, ognuno al proprio passo la bellezza è pedalare, gustarsi del paesaggio e alla fine arrivare insomma Abbiamo tre giorni, quindi tre percorsi differenti tutti studiati appositamente su strade secondarie, sentieri, strade bianche con dei comuni capofila che sono ad esempio Fano, venerdì 8 poi abbiamo sabato, il comune capofila diventa Urbino e poi abbiamo Pesaro, quindi sono dei percorsi dislocati tutta la nostra provincia In totale sono 350 km con quasi 7.000 metri di dislivello da dividere nei tre giorni Tutti i giorni la partenza e l'arrivo saranno nello stesso posto che è uno splendido casolare di campagna dislocato nella zona di Santa Maria dell'Arzilla il Magione Broccoli dove tutti i ciclisti potranno avere anche un bel ristoro finale insomma anche per condividere le esperienze del giorno Ricordiamo che poi l'evento è aperto ad ogni tipo di bicicletta quindi dalle gravel alle mountain bike alle bici da trekking, cicloturismo insomma ognuno si gode proprio col proprio mezzo il paesaggio Siamo quattro amici con la passione per la bicicletta ma che uscendo tutti i weekend abbiamo visto che è un territorio particolarmente pregiato che si presta partendo dal mare, salendo sulle colline fino alle nostre prime montagne della provincia di Pesaro Urbino quindi con questi tracciati che sono esclusivamente off-road e su strade secondarie quindi non utilizziamo le strade principali e che ci permettono di vedere paesaggi che sono di notevole interesse sia paesaggistico che naturalistico che soprattutto poi dopo i borghi dell'entroterra del nostro territorio pesarese Ci siamo dati un'idea di 150 partecipanti massimi per poter essere molto attenti su tutte le esperienze che tutti i ciclisti e le cicliste verranno a fare con noi La bellezza in fondo della nostra provincia sono le colline sono la possibilità di vivere un turismo slow, un turismo lento dove le attività outdoor, soprattutto in bicicletta, possono essere molto importanti Noi come Confcommercio, peraltro, con l'itinerario della bellezza abbiamo la stessa volontà, cioè quella di valorizzare i borghi valorizzare queste località della nostra provincia che partecipano al nostro progetto Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alla fontana di Piazzale Matteotti e ai portici di via San Francesco a Pesaro tinti di viola per onorare ieri la giornata internazionale contro l'epilessia che si celebra il 14 febbraio Un effetto cromatico viola per accendere una luce sull'epilessia malattia ancora oggi nascosta nonostante colpisca l'1% della popolazione mondiale senza differenze di sesso o età Ed ora una notizia che riguarda anche la nostra emittente perché il Consiglio regionale di oggi ha approvato una mozione a sostegno delle emittenti televisive locali Come riferito da Anna Menghi della Lega e Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia l'ultimo bando del Ministero dello Sviluppo Economico sull'assegnazione dei diritti delle frequenze digitali stabilisce che le tariffe delle concessioni non siano superiori rispetto a quelle correnti Le società giudicatari hanno però presentato richieste 4-5 volte superiori rispetto ai prezzi attualmente in vigore e questo rischia di penalizzare aziende che operavano nel settore da decenni Così la mozione impegna la Giunta a rivedere con le mise i termini dei nuovi accordi e a bloccare la sottoscrizione forzosa di nuovi contratti È tutto pronto per le finale di Coppa Italia di Basket che da domani a domenica si terranno all'Adriatic Arena replicando l'edizione pesarese di due anni fa Intanto è già arrivata in città la Coppa che fino a domenica farà bella mostra di sé a casa Rossini Il servizio! Due anni dopo la Coppa Italia di Basket è tornata a Pesero Il trofeo da oggi fa bella mostra di sé in uno dei luoghi più iconici della città come casa Rossini per poi spostarsi domenica all'Adriatic Arena per essere consegnata a una delle otto migliori espressioni attuali della pallacanestro nazionale Non ci sarà la VL di Banchi dopo che un anno fa la VL di Repesia recalò un sogno al popolo biancorosso arrivando fino in finale per poi cedere a Milano all'ultimo atto Armani che resta la favorita anche in questa edizione pesarese delle Final 8 e alla quale spetterà la prima palla 2 della manifestazione mercoledì alle 18 con Sassari Trento Brescia, Trieste Tortona e Virtus Bologna Brindisi gli altri quarti di finale che completano il lotto di pretendenti al trofeo Una bella soddisfazione, due anni fa è stata una grande festa poi purtroppo è arrivata la pandemia e tutto lo sport ha subito moltissimo l'effetto della pandemia poi l'anno scorso abbiamo sfiorato questa Coppa anche se in finale Milano ce le ha suonate quindi è stato anche un grande momento di risveglio della passione verso il basket da parte di tutta la città e anche della voglia di riavere il grande basket a Pesaro per questo abbiamo riportato le Final 8 un ringraziamento alla Lega Basket che continua ad investire su Pesaro siamo molto contenti, avremo una capienza ridotta però ci sarà pubblico e speriamo magari che per le semifinali e le finali possano aumentare ulteriormente i numeri quindi in bocca al lupo a tutte le altre squadre che si confronteranno a Pesaro ai tanti tifosi turisti che verranno nella nostra città è l'unico rammarico che non c'è la VL ci avevamo sperato fino all'ultima giornata però insomma questo non toglierà nulla e alla manifestazione il connubio con la cultura con la città della musica è talmente forte che tutti coloro che passeranno a Pesaro potranno ammirare questo bellissimo trofeo proprio nella vetrina di Casa Rossini è un evento che rispettiamo con orgoglio abbiamo organizzato anche delle iniziative collaterali ricordo l'inaugurazione del campo da basket dedicato a Gianluca Mattioni venerdì mattina ricordo il contest che abbiamo organizzato con il liceo sportivo Marconi nel quale era possibile inviare dei video insomma che rappresentassero al meglio il valore del basket nella nostra città e quello che rappresenta per tanti pesaresi il rammarico è che Pesaro non possa essere fra le otto finaliste l'anno scorso eravamo a Milano e Pesaro è stata in finale quindi eravamo lì e quindi contavamo che quest'anno Pesaro fosse qua e insomma ci dispiace però insomma siamo contenti per il movimento cestistico pesarese e non solo nazionale che ritornerà a Pesaro per quello che è un evento importante per il basket volevo ringraziare l'Alga Basket per averci scelto dopo due anni dalla scorsa edizione insieme abbiamo collaborato anche per migliorare le strutture all'interno avremo un nuovo parquet e due nuovi canestri che poi rimarranno a servizio dell'arena alla fine della manifestazione quindi con loro ci sono tutti i presupposti per poter fare bene questa edizione ma per poter sperare di averne anche altre nel futuro Ancora sport perché vi ricordiamo che domani tornano in campo la Vis Pesaro e l'Ital Service in turno infrasettimanale la Vis dopo il pareggio di fermo torna domani alle 18 al Benelli ospitando la Lucchese che la insegue di tre punti in classifica potrete invece seguire in diretta su Rossini TV la prima gara di ritorno dell'Ital Service che domani sarà di scena a Napoli appuntamento sul canale 633 del Digitale Terrestre domani alle 20 subito dopo il TG delle 19 e 40 vi ricordiamo anche che in occasione di appunto la trasmissione di questa partita non andrà in onda la edizione del telegiornale delle 20 e 40 ed ora vi ricordiamo anche la nostra prima serata alle 21 e 20 c'è il documentario, il ciclo di documentari di Gastone Mazzanti una volta a Fan Ceren i Campani questo è interessante approfondimento storico sugli eventi bellici del 1944 a Fano che va in onda ogni martedì alle 21 e 20 e poi vi ricordiamo la nostra rassegna stampa che come ogni giorno dal lunedì al sabato va in onda in diretta alle 7 e 20 buongiorno Rossini rassegna stampa che domani mercoledì sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi ed è davvero tutto per questa edizione delle TG ora ci sono le previsioni del tempo e io vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e io vi auguro un buon proseguimento di essere